Non si può avere tutto nella vita, si deve accettare quello che è comodo per noi. Non si può spesso cambiare idea, perché sai che quello che ti aspetti, quella ti terrai. Forse si balla, forse si va a nozze. Forse trovi altri gioielli con te, forse trovi altre sorprese che ti aspettano dietro quell'angolo lì. Sai che ascolterai, sai cosa sentirai con quelle orecchie lì. E' un mercato questo, è sempre il solito e va spesso di moda. Le vedi da tutte le parti, ti fai un tuo giudizio, pregiudizio di quel che senti. Tu sai come si vestono loro, tu sai come ti vogliono bene loro. Prima o poi la compagnia sempre arriva, non ti devi arrendere mai. Sono difficili alcune, nessuna donna è facile purtroppo. devi essere saggio e prudente, devi essere molto cauto. Le vedi da tutte le parti, davvero da tutte le parti. Va spesso di moda questo teatrino, è un meccanismo unico e lo vedi stesso tu. Come questo teatrino meccanico lo sai spesso tu. Nessuna donna è facile, nessuna donna è semplice da conquistare. Nessuna è di facile, nessuna è di facile portata quasi. Perchè alla fine non sono tutte uguali, accontentati solo di quelle che ti vogliono bene veramente. Perchè sappi che nella vita non si può avere sempre tutto. Perchè sappi che nella vita non si può avere sempre. Perchè sappi che nella vita non si può avere sempre. Perchè sappi che inizia il nostro cliente è per controllo.